Casale rileva dal fiume e al terzo minuto il gol. Frappampina riesce a servire De Rosa al centro dell'aria, il tiro è lento ma preciso. La Lazio non può reagire anche perché al quarto d'ora Giordano è costretto ad uscire per infortunio e Melluso in sostituto non dà grossi pensieri ai difensori napoletani. Seconda rete al ventunesimo, per questo infortunio di Piscedda, provocato forse dal terreno ridotto a un pantano, Dirseo non regala nulla. Terza rete al quarantunesimo, il tiro splendido di De Rosa per cacciatori non c'è proprio nulla da fare.